Giacari L ragazzi 55 litri di zaino ecco qui vedete già una delle tasche disponibili sempre su backpack.it che ho usato durante un'escursione anche lui ragazzi fa paura zaino tostissimo con coperchio flottante cioè posso alzarlo quanto mi pare o stringerlo alzando abbassando la capacità di carico chiusura a roll qui sopra ragazzi non so se si vede ma è uno zaino parecchio parecchio ben fatto è tosto ok volevo farvi anche vedere che aumentando la capacità quindi 55 litri aumenta anche la necessità di comfort qui il telaio non è opzionale ma è già all'interno dello zaino gli spallacci sono più imbottiti trovate anche dei bellissimi gancetti a di per collegare robe cinghie di carico regolabili cintura lombare più importante e ancora sui fianchi imbottiture e cintura rinforzata nel Giacari L troviamo già la possibilità di aprire lo scomparto inferiore per sistemare quello che ci serve probabilmente durante la notte perché è uno zaino così grande cosa diavolo lo comprate a fare se non per passare la notte da qualche parte magari nel bosco ce lo spupazziamo tutto ve lo prometto in un video dedicato guardate soltanto qui le cinghie per il materassino che fanno già parte del sistema spettacolare anche negli altri modelli è così è davvero un bellissimo accorgimento brava savotta grazie a tutti